Rieccoci sul canale di Mini Projects Official e in questo momento parleremo di come funziona un potenziometro, una cosa facilissima e questo potenziometro è da 10 km, si può leggere qui in alto, si mette a fuoco, benissimo, è da 10 km, 10 K e cos'è un potenziometro? Un potenziometro se sapete già cos'è una resistenza è appunto una resistenza variabile e qui come potete vedere c'è una staffa che ruota e attraverso questa staffa andiamo a gestire la portata della resistenza che andrà a ostruire la corrente che passerà tra questi tre pin sono tre pin dove di solito il centrale è dedicato alla massa e quello di sinistra all'entrata della corrente mentre quello di destra all'output e comunque consiglio sempre di andare a vedere i datasheet su internet che si trovano sempre perché dipende dalla casa produttrice che a volte scambia la posizione dei pin ma alla fine lo scopo del potenziometro è sempre lo stesso potete trovarlo anche sotto forma di trimmer ovvero quello dove per cambiare il valore della resistenza si va a utilizzare di solito un cacciavite è molto utile per ad esempio se volete regolare l'intensità della luce di un led oppure la velocità con cui gira un motorino metterci in mezzo semplicemente un potenziometro che nel momento in cui si gira questa manopola va a variare la tensione che va a alimentare il motorino o il led e questo qui il motorino girerà a velocità differenti mentre il led ad esempio cambierà di intensità luminosa bene questo è tutto spero di essere stato utile condividete mettete like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao